Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video. Io mi chiamo GrandDuckBlack e oggi vi libererò l'identità di TheLongamer. Un segreto celato per migliaia e migliaia di anni. Tutti gli studiosi del mondo, in un modo o nell'altro, hanno cercato di svelare chi ci fosse effettivamente dietro la maschera del TheLongamer. E qualcuno l'ha scoperto, chissà chi è. Non pensare che io non ti ho riconosciuto, caro TheLongamer. Dunque ragazzi e ragazze, vedete il video fino alla fine. Tra 1, 2, 3 e vi dico anche il suo vero nome. Lui si chiama Chirito, lo spadaccino nero. Poi scommetto che voi direte, ma come l'hai scoperto? Guardando bene l'immagine ho capito che lui era Chirito. Ho scoperto che lui era un informatico. Beh, pure Chirito è un informatico. L'università. Non solo ho scoperto questa immagine, ma ho scoperto che Gabby era con lui. Non ci credete? Vi faccio vedere l'immagine che era con Gabby. Infatti Gabby e TheLongamer, anzi volevo dire Chirito, sono migliori amici. Per questo... ...hanno fatto video insieme e si sono conosciuti così. E Gabby voleva riveliare l'identità di Chirito. Così una volta Gabby ha fatto una foto a Chirito, TheLongamer, e gli ha dato un caccia a Gabby, così... ...per imparare la lezione che queste cose non si fanno. Ma Gabby e Chirito sono migliori amici. Esse aiutano sempre, di ogni difficoltà. Comunque, ragazzi e ragazze, se vi è piaciuto il video mettete like per sopportarmi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, e noi ci rivedremo o di un prossimo video o di un prossimo blog. E... Ciao!